Ciao dalla Fiera ISPO, sono Klausel Grivell, vi presento le novità di quest'anno, abbiamo fatto con Grivell due lame nuove da ghiaccio, il Cascade Plus, una lama tagliata a laser e l'altra lama, la Dry Plus per dry tooling, un po' più rinforzata, l'altra più fine, con una shape più stretta. Come dice il nome, Cascade Plus è studiata per ghiaccio specialmente, Cascade, cascata da ghiaccio, invece il Dry Plus studiato per dry tooling, una lama un po' più appuntata per i buchi o piccole tacche sulla roccia, appunto rinforzata, perché viene usata anche o soprattutto su roccia. Poi la Grivell quest'anno introduce una nuova linea di bastoni, una linea in alluminio, un tubolo a 14, sempre made in Italy, vengono prodotti sempre a osta, un concetto si chiama a kni, come il nostro ginocchio funziona praticamente piegandolo in questa maniera qua, questo qua è il modello Trail 3 praticamente in tre pezzi, ingombro minimo, la mettere anche nello zaino o fuori dello zaino per l'alpinismo, sciapinismo o ciaspole, quindi consegnato con la rotella anche più grande, invernale, facile da mettere fuori, si evita che si toglie un attimo. In tre lunghezze, 110, 120 e 130, e c'è il due pezzi, il tre pezzi e il pezzo unico, con il manico un po' più alto, in modo che si può usare in salita o in discesa, si cambia la posizione della mano, poi c'è la versione vario, che rimane una lunghezza, c'è un bastone unico, si regola la lunghezza qua, velocemente qua sopra, con le lunghezze diverse segnate, si blocca un attimo, sempre sistema knie da piegare, un attimo, col manico però già reformato, tipo da sci, anche qua ho la possibilità di mettere la mano sotto, se vado in salita o in discesa, cambio mano, posizione, sempre tubo in alluminio da 14, sempre con la versione estiva o quella invernale, con la rotellina più larga. Proprio novità assoluta, che questo qua, il modello Snake si chiama, perché c'ha il manico curvato, che mi garantisce una posizione sempre ottimale, sia in salita, che tengo così, che in discesa, che cambio mano, posizione così. O lo posso tenere in questa posizione qua, in modo che il polso è sempre dritto, non devo piegarlo in salita. rimane sempre col sistema knie, appunto, come prima, facilmente da piegare e da mettere sullo zaino. I bastoni sono disponibili da subito, cioè praticamente per la stagione questa, primaverile, estiva. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Grazie.